Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Siamo oggi in compagnia di Cinzia Tulliani, che ci darà una mano per questa canzone di Claudio Amori, portata di nuovo alla ribalta in questo Sanremo 2020, che è... Non succederà più. Bene ragazzi, questa canzone si compone di quattro accordi, che sono il La maggiore, quindi dove ci sono i due tasti neri, qui a sinistra abbiamo il Do, andando indietro Si La. La Do diesis Mi forma il La maggiore, poi avremo il Fa diesis minore, quindi partiamo dal Do, Do, Re, Mi, Fa, Fa diesis, La, Do diesis, ormai il Fa diesis minore, poi avremo il Re maggiore, Re, Fa diesis, La, e il Mi maggiore, Mi, Sol diesis, Si. E la strofa fa così. Quando ho bisogno di te Succede che tu non ci sei Troppa fiducia rovina l'amore E adesso un mistero sei tu Bene, possiamo suonare dove vogliamo, a qualsiasi altezza, gli accordi Qua saranno più chiari, qua saranno un po' più scuri, ma è solo una questione di gusto personale Quindi questa era la strofa Il ritorno nello rimane invariato E fa così Non succederà più Che torni alle tre E io mi addormento senza te Eppure lo sai Che ho tanto bisogno D'amore Ma non succederà più Che dico di sì Per farti contento E penso Non succederà più L'amore te ne ho dato tanto Ma E poi riprende la strofa Le accordi restano invariati dall'inizio alla fine Bene, come abbiamo visto questa era una canzone davvero semplice da suonare al pianoforte Io ringrazio Cinzia Grazie a te Mario Per averci aiutato E vi lascio come sempre in descrizione il link su dove trovare il testo con gli accordi Poi due link su come imparare gli accordi al pianoforte Ed in più la diteggiatura per entrambe le mani Ciao ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao